Salve a tutti e benvenuti alla lezione introduttiva di questo breve corso di filosofia medievale. In quanto lezione 0, il video di oggi sarà principalmente introduttivo e dunque specificamente dedicato ad una descrizione più o meno dettagliata degli argomenti che affronteremo durante il corso, cominciando dai destinatari del video, e tanto che mi ci trovo vorrei anche condividere con voi quello che personalmente penso sull'attuale didattica in uso presso i licei per lo studio della filosofia come deciso dal ministero, appartenendo io teoricamente alla classe di concorso storia e filosofia. Cominciamo dai destinatari. Naturalmente questi video di filosofia medievale sono aperti a tutti, a tutti coloro che hanno un interesse nella materia. C'è infatti chi è interessato alla filosofia in generale e chi invece è interessato alla storia e nello specifico al medioevo e quindi potrebbe, attraverso lo studio del pensiero medievale, completare e arricchire la conoscenza del periodo di interesse o del periodo oggetto di studio. Nello specifico la playlist di filosofia medievale è dedicata agli studenti del liceo e agli studenti universitari della facoltà di lettere e filosofia o di qualunque corso universitario che preveda esami di filosofia e a questo punto, a seconda dell'appartenenza di chi guarda, cioè studente liceale o universitario, ci saranno modalità un po' diverse. E qui mi riallaccio al discorso sulla didattica. Da quello che ho notato sui ragazzi a lezione privata mi permetto di dedurre che, malgrado in teoria i programmi ministeriali di filosofia, così come sono stati articolati per il triennio, siano estremamente ricchi, purtroppo all'atto pratico o si fa poco, oppure si fa tanto e si fa male, oppure non si fa per niente. Ed è chiaro che la lancia non posso che spezzarla a favore dei colleghi di storia e filosofia, escludendo chi insegna così tanto per. Perché se poi mi ritrovo a lezione privata un'intera classe dove mi si dice che il docente di filosofia entra in classe, apre il manuale di filosofia, lo legge e quella è la spiegazione, bene, anzi male, quel docente non è un docente perché di fatto non ha insegnato filosofia e magari forse farebbe meglio a cambiare professione dal momento che dimostra soltanto di non avere uno a cuore l'insegnamento e due, cosa peggiore, dimostra di non avere alcuna passione per la filosofia, che è la materia in cui teoricamente si è laureato o si è laureata, ha conseguito magari il dottorato, ha svolto attività di ricerca e così via. Ecco però, come dicevo, la mia solidarietà va agli insegnanti perché c'è anche da dire che è estremamente duro fare l'insegnante al giorno d'oggi, in un contesto in cui bisogna sempre dire sì al proprio capo come in un'azienda, altrimenti come in azienda rispondono con il mobbing, per non parlare poi della continua e fastidiosissima interferenza delle famiglie nella didattica e soprattutto nella gestione dell'aula, cioè la disciplina. Case di professori picchiati dai genitori di questi ragazzi dimostrano il grado di inciviltà e di degrado a cui la razza umana è riuscita ad arrivare, più in basso del fondo, sempre ogni volta. Quindi per questa cosa gli insegnanti meritevoli avranno sempre la mia totale solidarietà, che chiaramente non va a dirigenti scolastici, fannulloni e incompetenti. E quello che dico è semplice e coinciso, lasciate lavorare gli insegnanti preparati, perché ce ne sono tanti fortunatamente e non possono svolgere il loro lavoro dal momento che il sistema li stritola, già il fatto che il metro di giudizio è la mera valutazione sulla base del tempo in cui viene svolto il programma. Quindi bravo il docente che lo finisce in tre mesi in termini di valutazione della performance, ma considerando che i destinatari sono i ragazzi, bravo di che? Perché che cosa avrà insegnato a questi ragazzi quel docente lo sa solo Dio. Basta mobizzare i docenti, che a loro volta poi devono caricare di compiti i ragazzi per rientrare nel famoso tempo per finire il programma. Basta con questo sistema, perdonate la parola di merda, che non permette ai docenti di insegnare, ma paradossalmente facilita a faccansisti e raccomandati di ogni tipo, con preparazione zero, ma zero carbonella. Gli insegnanti hanno tanti problemi al momento e hanno ragione, nessuno potrebbe negarlo, però cavolo, sempre fermo restando, che entrare in un'aula, aprire il libro di storia e di filosofia e leggerlo non è propriamente insegnare storia e filosofia. Il discorso specifico sulla filosofia medievale è poi un'altra cosa. Oggi pare si privilegino altri pensatori, diciamo pensatori dello scorso secolo, tipo Nietzsche, Marx, Schopenhauer, che per carità sono degni di nota e di rispetto. Però ridurre la filosofia medievale, specie personalità come Agostino e Tommaso d'Aquino, a quattro concetti messi in croce eppure sbagliati talvolta, mi sembra proprio che siamo all'assurdità se non all'ignoranza più totale. Non sarebbe meglio tipo accorpare Nietzsche nella letteratura, come panoramica sulla letteratura europea di quel periodo? Ai miei tempi si faceva così al liceo per non ignorare i grandi della letteratura europea e mondiale e perfino all'università ricordo di aver dato esami di letterature comparate dove mi sono ristudiata dalle fondamenta tutto l'idealismo tedesco, che si studia di solito nei manuali di filosofia. Ma penalizzare Tommaso d'Aquino è una cosa che francamente mi fa davvero girare i nervi e poi le conseguenze si vedono. A me è capitato a lezione privata, uno studente di liceo scientifico, e naturalmente non faccio il nome della scuola, che mi ha scambiato Tommaso d'Aquino per Tommaso l'Apostolo di Gesù. E quindi tante belle proposte di programmi ministeriali di filosofia a me sembra che alla fine rimangano sulla carta, perché mi chiedo come si possa confondere Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa, interprete aristotelico di fama mondiale, che vive e opera nel 1200 con l'Apostolo di Gesù, senza offese per nessuno degli Apostoli del Signore, sia chiaro. Però francamente è agghiacciante e la risposta che mi sono data ad un certo punto è che se la filosofia medievale viene percepita dai giovani studenti come una cosa di Chiesa, perché questa è la risposta che mi è stata data da più ragazzi, allora si facessero un po' tutti l'esame di coscienza, specie chi fa i programmi ministeriali. Cosa di Chiesa non vuol dire nulla, è offensivo tanto per la Chiesa quanto per la filosofia. Tommaso d'Aquino è cultura e come tale deve essere percepito? Umberto Eco ha scelto Tommaso d'Aquino come argomento della sua tesi e che Umberto Eco si occupava di cose di Chiesa? Non mi pare che fosse un prete, fermo restando che sicuramente anche un prete in seminario certo studierà Tommaso, ma anche un laico conosce Tommaso, un atio conosce Tommaso, Tommaso è cultura e se Tommaso viene percepito come cosa di Chiesa, la filosofia fatta così non serve a niente e mi conferma solo che ho fatto bene ad allontanarmi dalla scuola superiore ritagliando questo spazio su YouTube, le lezioni a casa e su Skype alla didattica privata che purtroppo spesso più che di supporto alla didattica scolastica è a questo punto costituzione di quella base, di quelle fondamenta che la scuola non dà più e ciò è triste e anche grave. Ecco il consiglio che vorrei darvi dunque, valido per gli studenti e per chiunque voglia a studiare filosofia anche da autodidatta è partire dall'acquisto di un buon manuale di storia della filosofia, qualunque tipo di manuale. Personalmente io mi sono formata sui testi di Nicola Bagnano, Carlo Sini, Antonio Gargano ed Enrico Berti e quindi sono questi i nomi dei miei maestri che in un certo senso mi sento di consigliare, però naturalmente qualsiasi altro manuale va più che bene, l'importante è comunque disporre di un manuale e studiare su un manuale. Poi naturalmente dopo la base di conoscenze che vi fornirà il manuale benvengano gli altri testi e soprattutto la lettura dei testi dei filosofi stessi e a tal proposito vi consiglio le antologie di Carlo Sini se non volete acquistare le opere complete. Naturalmente validi approfondimenti si trovano anche su YouTube e mi permetterai di segnalare senza fare pubblicità a professori che non ne hanno affatto bisogno il canale dell'Istituto Italiano di Studi Filosofici che fa capo ad Antonio Gargano, il canale del professor Carlo Sini che il professore ha creato in modo sperimentale per voi studenti, universitari in questo caso, ma non fa male neanche ai liceari seguire il canale e mi permetterai di segnalare anche due siti già particolarmente noti che sono quelli del professor Matteo Saudino e naturalmente il canale di Annalisa che rappresenta l'eccellenza all'interno dei canali dedicati alla filosofia, cioè il canale di Annalisa è il canale di filosofia per antonomasia su YouTube. E comunque vi lascio nel box informazioni i riferimenti bibliografici e videografici che vi possono essere utili per approfondimenti. Vi raccomando vi lascio tutto in infobox perché come accennato nei precedenti video le schede video mi sono state disabilitate. Mi sentirei ancora di dire agli studenti liceali di smettere di imparare le materie a memoria, dalla letteratura italiana alla storia, alla filosofia, perfino alla fisica. Imparare a memoria non vi aiuta a sviluppare capacità logiche e soprattutto capacità di giudizio critico e questo poi comporta che quando all'università durante il corso di un esame un professore vi chiede il vostro personale parere su determinati argomenti voi come i papagalli ripetete il manuale. Alcuni docenti sono tolleranti di fronte a questi fenomeni perché comprendono che la scuola è un po' nella sua parabola discendente, altri però sono meno tolleranti al riguardo. Non si impara mai a memoria e tutto quello che si legge con attenzione va rigorosamente rielaborato, approfondito e ripetuto ad alta voce. Un esame orale si prepara ripetendo ad alta voce e questo vale tanto al liceo quanto all'università quanto per ogni eventuale vostro futuro intervento magari anche da docenti. Per gli studenti universitari invece che hanno alle spalle già tre anni di filosofia studiate alla scuola superiore quello che consiglio è di approfondire il più possibile e quindi utilizzare i canali e i testi che ho condiviso con voi in infobox e naturalmente non fermarvi a quello che vi ho segnalato ma cercare altre risorse perché quando si dà un esame universitario l'obiettivo è puntare al voto massimo e non al voto minimo e poi dire mi va benissimo così perché 18 non va benissimo ragazzi e vi precludete la stima dei vostri docenti e anche una buona media poi per l'ultimo anno quando dovete discutere la tesi di laurea e ovviamente la possibilità di avere un buon punteggio se decidete di concorrere poi per eventuali cicli di dottorato in cui è bene partire già da un buon punteggio approfondite e soprattutto leggete le opere ai miei tempi le opere dei filosofi erano incluse nella bibliografia obbligatoria adesso in molti casi sono facoltative ma io vi consiglierei di leggerle considerando ad esempio che i dialoghi di platone li trovate anche in formato pdf sul web e se volete acquistarli li trovate a buon prezzo su amazon o libraccio con tanto di traduzione greca a fianco quindi se non avete avuto purtroppo non per vostra responsabilità una buona base o non avete attualmente la possibilità di formare una buona base di conoscenze avete comunque la possibilità di costruirvi da soli la vostra base facendo un uso saggio e intelligente di internet sarà un po' faticoso ma alla fine riuscirete e avrete tutte le soddisfazioni e i riconoscimenti che meritate quando si lavora duro prima o poi fidatevi la ricompensa arriva passiamo alla seconda parte del video e vediamo quali sono gli argomenti che tratteremo come si sa il medioevo è un periodo lunghissimo e non avrò modo di approfondire tutti gli argomenti motivo in più per rinnovare il mio invito a consultare i manuali anticipando comunque che sto lavorando alla creazione sul mio sito web di una serie di podcast di approfondimento dei grandi temi della filosofia e magari anche letture di brani di filosofi sezione della quale qui su youtube presenterò degli estratti di qualche minuto perché questo sarà un servizio a pagamento sarà un servizio in abbonamento annuale a prezzi modici dal momento che youtube mi ha finalmente abilitato la monetizzazione sui video e anzi colgo l'occasione per ringraziare il team di youtube dimenticando gli attriti del passato vediamo gli argomenti del corso la prima lezione sarà interamente dedicata ad una periodizzazione della filosofia medievale con una breve introduzione a cristianesimo ed ebraismo ovvero i monoteismi per inquadrare il rapporto tra religione e filosofia greca che in un certo senso sopravvive nel pensiero cristiano dando vita a prodotti culturali non roba di chiesa di notevole importanza in quanto costituenti le fondamenta della cultura occidentale che è greca ma filtrata attraverso la filosofia medievale filosofia alto medievale panoramica dei principali autori dal momento che la filosofia medievale non è solo poezio problematiche affrontate dalla filosofia alto medievale patristica e fine della patristica agostino di ippona filosofo che tratteremo in modo specifico dedicandogli eventualmente anche più di un video dal momento che agostino è uno dei principali esponenti della patristica occidentale rinascita caro linja e problemi filosofici che sono stati poi trasmessi in eredità ai posteri e in quest'ambito ci occuperemo in maniera un pochino più specifica di scoto e riugena ma mi raccomando scoto e riugena non c'entra assolutamente nulla con danz scoto sono due figure completamente diverse e appartengono a periodi completamente diversi prescolastica e un breve accenno alla figura interessantissima di pietro abelardo al quale sicuramente dedicherò un ciclo di podcast sul sito anno mille e transizione dall'alto al basso medioevo disputa sugli universali alla quale riserveremo attenzione particolare perché di primaria importanza dodicesimo secolo e il relativo panorama filosofico con accenno alla mistica compresa breve trattazione della filosofia araba e della filosofia ebraica aristotelismo in occidente che è una delle parti che personalmente preferisco focalizzandoci sull'aristotelismo averroista sigeri di brabante boezio di dacia aristotelismo eclettico e aristotelismo cristiano associato naturalmente a tommaso d'aquino come rappresentante della filosofia del 1200 al quale come per agostino dedicheremo magari più di una lezione perché non venga mai più confuso con tommaso l'apostolo del signore teologia mistica in cui acceneremo ad una mistica al maschile di stampo dotto erudito attraverso la figura di buonaventura da bagnoreggio e un misticismo al femminile misticismo di disperazione di sofferenza attraverso la figura della beata angela da foligno altre figure a cui acceneremo saranno quelle di eckhart di danz scoto e poi naturalmente affronteremo la dissoluzione della scolastica e in modo particolare la figura di guglielmo di hocam come esponente rappresentativo della filosofia del 1300 concluderemo il nostro corso con un breve accenno al panorama culturale in modo particolare scientifico a fine 1300 e scavallamento al 1400 dove ci fermeremo perché naturalmente quella fase della storia del pensiero sarà oggetto di un'altra playlist di filosofia moderna spero che questa playlist sia di vostro interesse di supporto allo studio e soprattutto vi convinca del fatto che se trovate la filosofia noiosa complessa inutile non dipende dalla filosofia ma dipende esclusivamente dal fatto che la filosofia non vi è stata trasmessa da chi avrebbe dovuto farlo con passione e tramite una didattica idonea che spinga la riflessione sulle cose riflessione che naturalmente non include la cattiva attitudine di imparare a memoria come i pappagalli senza capire cosa si sta ripetendo io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima volta con la nostra prima lezione arrivederci